Presidente, importanti novità su assi attrezzato e anche il nucleo industriale di Pescara, quali? Ieri abbiamo ricevuto una lettera del capo della struttura tecnica di missione del Ministero delle Infrastrutture con il quale avevamo per lunghi mesi discusso e affrontato questo tema che riconosce finalmente in capo al Ministero e per conto di ANAS la titolarità del bene, la necessità di sciogliere il nodo legato ai contenziosi, agli espropri, ai debiti che hanno messo in ginocchio il Consorzio Industriale e che impediscono all'economia di quell'area, della Val Pescara, di poter dispiegare pienamente tutte le proprie potenzialità compresa quella della ZES che ha molte decine di ettari proprio presenti all'interno del Consorzio Industriale che oggi è obberato da debiti in maniera incolpevole nel senso che paga vicende degli anni 80 e 90 di espropri fatti male, di procedure non concluse o non perfezionate su cui adesso è inutile andare a cercare responsabilità resta il fatto che io ho voluto prendere di petto questa vicenda come riconosce correttamente il Ministero su iniziativa della Regione il Ministero riconosce di essere lui il titolare del bene che quella è una autostrada e che tale deve essere trattata e considerata e che per perfezionare il passaggio della proprietà in Capodanas bisogna anche chiudere questo contenzioso e questo è un passo fondamentale per permettere di fare il prossimo che è quello da parte del Governo di fare una norma in Parlamento far approvare dal Parlamento una norma con relative coperture per poter risarcire tutti gli aventi diritto, chiudere questo contenzioso e rimettere in bonus il Consorzio Industriale di Chiedi Pescara e fare in modo che pure quell'area industriale possa finalmente risollevarsi è un passo gigantesco per l'economia abruzzese che saluto con grande soddisfazione